fatto questo è finito, si è voluto Raffaele, lo dobbiamo fare bene, Raffaele allora io ti chiederò, hai visto Carmela, io vado sulla cucina, ah, fettiglie, Carmela andiamo qui, signori, adesso si dite, Raffaele, Raffaele sta a Carmela non ho fatto un problema di, e le seguite, sento l'indicazione, arriva, venerai un quarto artiste, per piacere, quindi in modo se si, ah, e chi è Carmela, si, esatto, non si, adesso andiamo dal signor Nello, comincia a chiamare Nello Nello? Nello? Hai visto Carmela? E' quella che quando ti vede fa un lato, lo fa morire, Raffaele, vai! E' quella che quando ti vede fa un lato! Signori, tocca pure adesso! Adesso regovenna questo bel signore che si chiama? Gio, Giovanni della città, lo fuserà! Prego! Gio, Gianni, brava! E' una f***a della golga! E' una f***a! Ho giovanato alla baraccina su eletto! E' una f***a! E' un'altra f***a! Ragazzi, per favore, Gianni, andiamo con l'angelo, Angioletto, Giurizzo, oddio, mi stessi sposi, hai visto Carmela? E chi è Carmela? E quando ti vedi fa... No, si chiama Gianni, si chiama Gianni, fatti più... Vabbè, allora si sa, non lo faccio. Gianni! Gianni! Ah! Ci vanno le tracce, tu non mi dava al tavolo, tu non lo cagli, tu non lo fai, tu non lo fai... Hai visto Carmela? Ah, e chi è Carmela? E' quello che quando cammina fa... Wow! Bravo, bravo le faccia! Scusami, Gianni, te lo chiedo direttamente, mi dici chi è Carmela, per piacere? Ah, ehi, quando cammina fa... Ah! Wow! E che elegante, signore! Da qui mi sa, Carmela! Movi! Uai! 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 Ma te capite che no, non capite che non c'ho! Raffaele ti piace, si può andare a Carmela e verrà, ma in un altro momento! Raffaele, non ti chiediamo ancora, hai visto Carmela, tu gli hai dici, senti chi è Carmela? Raffaele, hai visto Carmela? E chi è Carmela? Adesso non ti sbagliare, quello che quando ti vede fa... Uai! 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 Non è possibile! Uai, Nella... Nella è bella, la stessa cosa, vai! Non lo hai visto per me? Nella è vista per me. E chi è Carmela? Quella che quando ti vede fa... Uau! Uai! 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 Applausi, ho passato! Uai! Oddio! E adesso Carmela? Uai! Uai! E si può subru, vai! Uai! Uai! che la parecchie fa la paura niente giuri poi c'è la ragazza che ha scassato il car io c'hanno pure il padre non ci ho detto caro mio l'angelo non ci ho detto dimmi questa Carmela è chi è Carmela è quella che quando ti vede fa cacca cacca hai una manaccia non vuoi tornare in un pacco cacca 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 hai visto Carmela chi è Carmela è quella che quando ti vede fa wow che si paria cacca è quella che ha la cosa che fa wow applausi forte davvero di Santa Maria e la quando ti vede fa un po' un po' un po' adesso è finito sono sicuro che lo sai fa ah nero 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 hai visto Carmela è chi è Carmela è quella che quando ti vede fa wow niente 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 avete capito? Raffaella è tutta la mano guarda te per riprescare un applauso a Raffaella e quindi rimane ancora un applauso a Gianni Gianni ha messo a capire e che è quella quando ti vede perché avevi fatto happy per la prima cosa e poi c'è Stormela più come that ui be bravo ciao ora xi è un altro modo che dopo quello che fa wow quella che fa wow 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 si è adumentato famiglia finale dobbiamo fare un gran finale con Gianni perché ve lo potete permettere vai Gianni dimmi hai visto Carmela? e chi è Carmela? è quella che quando ti mette e fa wow gnocchi 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 bravo 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 ma io veramente tutto bravo Gianni tu mi è reso per piacere vai dici a tutti chi è questa Carmela chi è Carmela? è quella che fa ah 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 signori un applauso forte a cinque artisti come l'avevo detto ci faranno sempre grazie Gianni Ancelo Gianni Nello e Raffaele raffaele complimenti applausi forte signora questa mia